Oggi parliamo di un nuovo rumor sulla nuova restyling Model Y, poi un evento negli Stati Uniti per la fine dell'anno e poi il perché alcune consegne di Model 3 Island sono state spostate da dicembre a gennaio o febbraio. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla, parliamo di Model Y Refresh perché secondo Bloomberg, attenzione prendete molto con le pinze quello che vi sto per dire, sarebbe già in atto un aggiornamento delle linee di produzione di Model Y a Shanghai per accogliere un restyling di Model Y. Attenzione, si parla di non prima di metà anno prossimo e mi viene da dire, mi sembra anche abbastanza ovvio che non avvenga prima, come è capitato o di dirlo nei Lampi o a qualche mail che mi avete scritto, devo dire molte rispetto alla nuova Model Y, alle quali ho risposto che sicuramente ci sarebbe stato qualcosa nel 2024, ma non mi aspetto effettivamente niente prima di primavera o giù di lì. Quindi secondo questa notizia di una fonte ovviamente interna o comunque vicina all'ambiente, sembra che per metà anno prossimo ci sarà una sorta di restyling di Model Y. Però facciamo una valutazione, perché non è detto che, anche se fosse poi vero e realistico, cosa che potrebbe essere tranquillamente, non è detto che corrisponda anche a un restyling di Model Y in Europa e negli Stati Uniti, beh a noi interessa soprattutto l'Europa. Perché come sta succedendo adesso per Model 3, dove il restyling, la Highland, è disponibile in Europa e comunque in tutti i mercati dove Model Y è costruita in Cina appunto, negli Stati Uniti non è ancora prevista e non si sa quando sarà introdotta. Potrebbe succedere una cosa simile anche per Model Y, cioè in Cina e per tutti quei mercati serviti dalla Cina potrebbe arrivare qualche aggiornamento, mentre magari per Berlino e Texas e Fremont potrebbe esserci qualche ritardo. Questa è una mia considerazione personale, stiamo speculando ovviamente. Quindi è possibile che ci sarà qualche variazione su Model Y a metà anno prossimo, non è detto che sia valida anche per l'Europa. Vi ricordo tra l'altro che già qualche mese fa per il mercato cinese c'è stato qualche piccolo aggiornamento sugli interni di Model Y, ma questo non è arrivato in Europa, ecco questo è l'esempio. Quindi io vi riporto la notizia, se come molti di voi mi hanno scritto vale la pena comprarla adesso, aspetto il nuovo modello eccetera eccetera, non c'è una risposta univoca. Fate le vostre valutazioni, se vi piace la macchina che c'è adesso, con il prezzo che c'è adesso, compratela, altrimenti potete aspettare. Ci avviciniamo ormai alla fine dell'anno e sappiamo bene che di solito verso la fine dei trimestri Tesla si inventa delle manovre per vendere sempre più macchine. Questa non ricordo l'avesse mai fatta, in particolare ha inviato una mail, parlo degli Stati Uniti, dicendo che per gli ultimi giorni dell'anno ha organizzato una sorta di celebrazione, proprio di fine anno, dove si può valutare di acquistare un'auto in pronta consegna, in particolare a Fremont, quindi nella fabbrica, diciamo nel parcheggio, nella parte di consegne della fabbrica di Fremont, dove si può scegliere una nuova Model 3 e portarsela a casa. Questo perché, in particolare perché per Model 3 i 7500 dollari di incentivo federale finiscono proprio il 31 dicembre. Quindi Tesla sta provando a spingere il più possibile comunque per vendere le auto, giustamente anche a favore del cliente, entro questa data. Diciamo che negli Stati Uniti la vendita, diciamo così, in giornata è molto più semplice perché l'immatricolazione può avvenire sul posto. Io ho esperienza di questo, effettivamente quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, la prima auto che ho comprato, usata da concessionario, l'ho ritirata entro un'ora. Sono andato, l'ho vista e lui ha tirato fuori la targa da un cassetto, semplicemente ha inserito nel sistema della motorizzazione l'associazione targa numero di telaio e io sono andato via con la macchina. Ecco, quindi è un po' più semplice rispetto che da noi, quindi penso che da noi non ci sarà un'iniziativa del genere. Model 3 Highland in consegna entro fine anno. Purtroppo molti di voi stanno ricevendo mail da Tesla, oppure lo vedono nell'app, riguardanti lo spostamento di consegna dal magari 28, 29, 30 dicembre a gennaio o febbraio. Questo purtroppo non dipende da Tesla, ma dipende dalla tensione che c'è attualmente in Medio Oriente, in particolare sul Mar Rosso e tensione per la quale le navi, e quindi non solo quelle Tesla, ma tutte le navi di trasporto merci, stanno evitando il canale di Suez per circunnavigare l'Africa. Capite che ci vuole molto più tempo, circa un 15-20 giorni in più. Sembra che la situazione si sia stabilizzata, infatti Maersk, che è un colosso del trasporto marittimo, ha ripreso proprio oggi a passare per il canale di Suez, ovviamente le auto che sono presenti sulle navi che hanno già intrapreso la rotta di circunnavigazione dell'Africa, purtroppo arriveranno in ritardo. Quindi questa è la motivazione che ovviamente purtroppo non dipende da Tesla, mi viene da dire. E ora passiamo ai saluti e ai ringraziamenti, non ho fatto video per tre giorni, quindi sono rimasto un po' indietro, mi porto in pari. Maurizio, grazie mille per il tuo supporto e leggo volentieri quello che mi hai scritto. Ciao Fabrizio, un piccolissimo regalo di Natale per il canale. A te e la tua famiglia faccio i migliori auguri per un sereno Natale e un 2024 a tutto lampi di Tesla. Grazie, grazie mille, tanti auguri anche se in ritardo per Natale, anche a te. Poi un altro ringraziamento e saluto a Emanuele che mi ha scritto un piccolo supporto da mettere sotto l'albero dei lampi, è bello trovato sotto l'albero. Grazie, grazie mille. E poi Andrea che non è nuovo al supporto al canale, grazie Fabrizio per i tuoi lampi sull'universo Tesla e sulle varie sfaccettature, talvolta contraddizioni e gli aggiornamenti su quel mattacchione di Elon. Ma è bella questa, mi è piaciuta. Un augurio di buone feste a te e famiglia, ruba la 500 elettrica a tua moglie e fai un test sul software. Andrea, lo so, lo so, devo farlo, serve il tempo. Ti prometto che prima o poi lo faccio, sia la prova dei consumi che una recensione, chiamiamola così, del software, anche se lo conosco poco, quindi potrei effettivamente fare un taglio del video incentrato su una persona che non conosce minimamente l'auto e si trova a incontrarla per la prima volta. Potrebbe essere una bella idea. Poi Gianfranco, grazie mille anche a te per il supporto, mi ha scritto ringraziandoti, voglio continuare a supportare il canale Gianfranco Pinerolo. Beh sì, sei una vecchia conoscenza, ci siamo anche visti più volte. Grazie, grazie mille. E poi Gabriele che mi ha scritto ciao Fabri, ho appena finito di guardare il video della letterina di Elon, incrociamo le dita e poi semplicemente volevo farti anch'io gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo a te e alla tua famiglia. Ringraziandoti per averci, mi espongo per tutta la community, costantemente tenuti aggiornati, con passione, onestà intellettuale e simpatia per tutto quest'altro anno che sta volgendo al termine, sul sempre sorprendente e meraviglioso mondo Tesla. Continua così e grazie mille a Gabriele. Grazie, grazie mille, mi piace un sacco leggere i vostri messaggi. E poi l'ultimo per oggi, mi sono portato in pari, Giuseppe, tantissimi auguri, Fabrizio l'ha fatta così ma non è la prima volta che Giuseppe supporta il canale e quindi grazie, grazie mille anche a te. Grazie mille a tutti, rinnovo gli auguri a tutti e abbiamo qualcosa che bolle in pentola. Forse spero sia per Livigno sia poi per un'altra pistata un po' più in là coi mesi del 2024. Non vi svelo niente, sono ancora in fase di ricerca, di organizzazione, però c'è qualcosa che sicuramente vi piacerà. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!